benvenuti a scientificamente il tg dello spazio e della scienza lancio flop razzo russo si schianta in siberia è una stagione nera per la russia in ambito spaziale dopo che il cargo progress destinato alla stazione spaziale internazionale è finito fuori controllo poche settimane fa anche il terzo stadio del razzo vettore proton m ha fallito partito dal cosmodromo di baikonur non è riuscito a mettere in orbita un satellite messicano destinato alle telecomunicazioni e ha finito la sua corsa schiantandosi in siberia l'incidente è avvenuto a 160 chilometri di altezza a pochi minuti dal lancio e le autorità russe sono state informate dall'agenzia roscosmos delle coordinate in cui i detriti sarebbero caduti parte del razzo è sicuramente bruciato in atmosfera ma a terra potrebbero essere comunque ricadute alcune parti la preoccupazione principale è destata dalle tonnellate di propellente altamente tossico che il razzo portava a bordo crop la app italiana vince allo space apps challenge un'app made in italy si è aggiudicata al premio internazionale nella categoria global impact dello space apps challenge la competizione della nasa che si svolge contemporaneamente in tante città del mondo e punta a individuare le migliori soluzioni digitali per problemi globali la app vincitrice si chiama crop è semplice da usare e va in aiuto degli agricoltori per il controllo dello stato di salute dei loro terreni il monitoraggio include l'uso di sensori locali e immagini radar acquisite dai satelliti con lo scopo di tenere sotto controllo l'evoluzione di fenomeni pericolosi per l'agricoltura e con l'ambizioso obiettivo di controllare la invasione degli insetti l'agricoltore può accedere a crop sia da smartphone che dal web space is our lovely dream dichiarazione d'amore per lo spazio in video l'aeronautica militare ha realizzato un video dedicato agli astronauti italiani e a tutti coloro che hanno realizzato il sogno di volare dai pionieri al volo nello spazio il video si rivolge ai più piccoli ai giovani aviatori agli astronauti di domani lo ha presentato il capo di stato maggiore dell'aeronautica il generale di squadra aerea pasquale preziosa in anteprima ad expo 2015 in occasione del convegno aeronautica militare uno spazio di opportunità il video si chiama our lovely dream ed è stato promosso anche dall'agenzia spaziale italiana e dall'agenzia spaziale europea il messaggio lo spazio il nostro sogno e basta credere nei propri sogni per trasformarli in realtà un invito all'esplorazione e alla conoscenza che parte dalla curiosità dei bambini e arriva in atmosfera grazie alla magia del volo dalle stelle ai tumori arriva il nuovo acceleratore gigante un nuovo acceleratore di particelle è stato installato nei laboratori di legnaro padova dell'istituto nazionale di fisica nucleare ciò che sarà prodotto da questo gigante della tecnologia pesa 180 tonnellate verrà utilizzato sia per conoscenze terrestri che spaziali i suoi dati infatti contribuiranno alla medicina permettendo la creazione di nuovi radiofarmaci ma anche allo studio dettagliato di quei processi che portano alla formazione dei nuclei pesanti come quelli che vengono sintetizzati nell'esplosione delle supernove in particolare per quanto riguarda le applicazioni in medicina si prevede che già a partire dal prossimo anno si otterranno isotopi che potranno essere utilizzati sia nella diagnosi che nella terapia per i tumori la produzione di isotopi di questo tipo è rarissima avviene solo in pochi centri al mondo l'appuntamento con le notizie finisce qui vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicata all'approfondimento è finita con uno schianto sulla superficie del più piccolo pianeta del sistema solare la missione messenger della nasa alla velocità di quasi 4 km al secondo la sonda che dal 2011 ad oggi ha osservato e fotografato mercurio ha terminato la sua corsa finendo con un impatto al suolo così come programmato la vita di messenger è stata avventurosa e ricca di scoperte partita nel 2004 da cape canaveral la sonda ha impiegato 7 anni per arrivare in prossimità del pianeta più vicino al sole anziché affidarsi a una grande quantità di propellenti per affrontare il lungo viaggio gli scienziati hanno scelto di affidarsi a una tecnica combinata di manovre e flyby che hanno permesso alla sonda alcune osservazioni a distanza ravvicinata anche della terra della nostra luna e del pianeta venere nei quattro anni di osservazione messenger ha segnato la storia di mercurio così vicino al sole da rendere problematico l'uso di telescopi per il suo studio ha smentito teorie e effettuato nuove scoperte arricchendo il bagaglio di conoscenze costituito anche dai dati raccolti dalla sonda mariner 10 che si era avventurata in prossimità di mercurio 40 anni fa grazie alla sonda messenger sappiamo che le evidenze sperimentali teorizzate da alcuni negli anni 90 erano esatte sul pianeta più piccolo del nostro sistema c'è effettivamente acqua allo stato solido messenger ha infatti rilevato la presenza di ghiaccio all'interno del cratere kandinsky la scoperta è stata possibile grazie alle misurazioni di riflettività dell'altimero laser mla combinati con i dati sullo strumento grns e con le immagini raccolte da un radiotelescopio messenger ha permesso anche di ridimensionare l'idea che su mercurio facesse eccezionalmente caldo a terra si riteneva che le temperature possono arrivare addirittura a 9500 gradi in realtà oggi sappiamo che al massimo arrivano ad appena 427 gradi centigradi rispetto alla terra mercurio un campo magnetico 100 volte più debole e che al suo centro non nel nucleo del pianeta ma molto più a nord il campo magnetico risulta poi notevolmente deviato rispetto all'asse di rotazione del pianeta queste caratteristiche così singolari rappresentano ad oggi ancora un enigma per gli scienziati il passato di mercurio c'è stato in parte svelato dalla sonda della nasa sicuramente il piccolo pianeta è stato protagonista di epoche turbolente fatte di eruzioni vulcaniche violente e bollenti questo spiega le caratteristiche della superficie di mercurio evidentemente plasmata dalla lava non solo sul terreno sono state osservate anche delle strane macchie tuttora senza una definizione precisa di loro si sa però che sono vuote si ritiene che si tratti di materiale volatile che si distacca dal solo di mercurio per perdersi poi nello spazio aiutato dal vento solare mercurio ci ha svelato anche delle stranezze singolarità senza nome che moltiplicano la curiosità degli scienziati innanzitutto messenger ha rivelato l'esistenza di alcune depressioni sul terreno sono crateri diversi per dimensioni e profondità tutti accumulati dal fondo piatto e dalla causa ignota che le ha generati l'ipotesi finora più accreditata è che i criteri si siano generate in seguito alla perdita di materiale del terreno probabilmente sublimato ma la bizzarria più grande di mercurio è forse un'altra il pianeta infatti in piena attività il suo nucleo dimostrano le osservazioni di una serie di increspature si raffredda e si contrae questo significa di fatto che mercurio si sta restringendo di conseguenza i materiali presenti sulla sua superficie scivolano e cambiano la faccia del piccolo pianeta è stato calcolato che in 4,5 miliardi di anni di vita mercurio si sia ristretto di almeno 10 chilometri e il suo rimpicciolimento non si arresta dopo 4000 orbite intorno a mercurio la vita di messenger si è spenta ma la sua attività non si è arrestata con lo schianto del 30 aprile la sonda se le strisce continuerà infatti a parlare agli scienziati nei suoi quattro anni di incestante lavoro messenger ha raccolto 10 terabyte di dati gran parte dei quali aspettano ancora di essere esaminati compresi quelli dell'avvicinamento più spinto quelli che hanno fotografato la superficie di mercurio a pochi chilometri dallo schianto mercurio non è un pianeta compatibile con la vita come la intendiamo sulla terra ma la presenza di ghiaccio potrebbe aprire la porta alla scoperta di materiale organico e resta accesa la speranza che attraverso i dati a disposizione si possa rispondere a tutti gli interrogativi sulla nascita e sull'evoluzione del sistema solare e sull'evoluzione